Grande successo per il Career Day dedicato alla scuola di architettura e design e vittoria dell'Università di Camerino che l'Ateneo ha organizzato nei giorni scorsi ad Ascoli Piceno in collaborazione con Confindustria, Ascoli Piceno presso la sede dell'Annunziata. Tutti i partecipanti hanno avuto l'opportunità di incontrare le imprese, conoscere i responsabili delle risorse umane di recruiter, sostenere colloqui conoscitivi, lasciare il proprio curriculum vite e scoprire nuove opportunità di lavoro. La giornata si è aperta con un evento in plenaria con i saluti del rettore Claudio Pettinari, del presidente di Confindustria Ascoli Piceno Simone Ferraioli, del presidente CUP Claudio Massi, dell'assessore alla cultura del comune di Ascoli Piceno Donatella Ferretti, della delegata del rettore ai rapporti con le imprese Elisabetta Toregiani e del delegato allo stage e placement Francesco Nobili. E' poi seguito il talk show dopo la laurea, cosa è successo, con le testimonianze di laureate e laureati Unicam dei corsi di architettura e di design. Il cortile dell'Annunziata ha accolto poi tutti i partecipanti che hanno potuto incontrare le aziende presenti.